Mister Talarico, mister della Juve Domo, sconfitta 2-1, direi che era iniziata bene e mi avevi detto che davate battaglia, la Juve Domo si è vista con la faccia giusta, poi ha vinto però il piedi Muller 2-1. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare, abbiamo ancora dei giovani che pian piano devono prendere il ritmo di questo campionato, di questo impatto sulla partita, piano piano dobbiamo venire fuori, in qualche modo dobbiamo trovare una quadra migliore anche di quella di stasera. Adesso c'è da risettare perché domenica c'è l'esordio in campionato al Curotti contro il Brio. Sì, ma non dobbiamo risettare nulla, l'interesse della Coppa Italia era un interesse relativo al di là del vittorio sconfitta, abbiamo fatto un bel po' di turnover, come è giusto che fosse, i ragazzi meritavano di giocare un po' tutti, dare minutaggio a chi sta meno bene e questo è stato il risultato della partita. Grazie.